La pioggia incessante di ieri è bastata a far tornare indietro il valo di Diano di millenni, quando la nostra vallata era ancora un lago e tutti i terreni erano sommersi da metri e metri d'acqua. Sarà questa la causa della facilità con la quale si ritorna allo specchio d'acqua, seppur dopo solo una giornata di pioggia, anche se particolarmente intensa? Non tutti i mali vengono per nuocere, comunque questa mattina la vista che si godeva dal bel vedere di Teggiano era particolarmente suggestiva. Magari, e giustamente, non saranno d'accordo i lavoratori della zona industriale di Teggiano. Questa mattina avrebbero dovuto munirsi di canotti o gondole per intraprendere le normali attività. Ma prendiamola anche questa volta con ironia. Volete mettere l'emozione di sentirsi in laguna senza dover prendere un treno per arrivare fino a Venezia? La fortunosa assenza di danni a persone, molti invece quelli alle cose, ci permette di scherzarci un po' su, almeno fino alla prossima pioggia, quando, ne siamo purtroppo abbastanza sicuri, la situazione rimarrà ancora la stessa.